Chi voleva poteva lasciare il proprio messaggio, quindi sono state iscritte e come promesso oggi le consegniamo al destinatario, ovvero il ministro Matteo Salvini. Abbiamo realizzato delle cartoline dedicate, quelle che vedete sono quelle vincitrici del contest e quelle dell'ONG che abbiamo portato in piazza domenica 30 e le abbiamo fatte firmare e chi voleva poteva lasciare il proprio messaggio. Quindi sono state iscritte e come promesso oggi le consegniamo al destinatario, ovvero il ministro Matteo Salvini. Il futuro dei nostri figli va rispettato, basta razzismo. Dalla guerra e dalla fame tu scapperesti? Sì, questi sono alcuni dei messaggi che abbiamo raccolto, le scatole che vedete sono piene dei messaggi degli italiani e noi siamo qua a consegnarli. Le prendo in carico io? Sì. Simbolicamente me ne prendo uno se qualcuno mi dà una mano. Sì, grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie.